Non c'è via d'uscita! Forse dobbiamo pensare in modo diverso. Il fieno! Si muove! Ecco perché non troviamo la fine del labirinto. Perché cambia in continuazione per fermarci. Cosa possiamo fare per uscire da qui? Dobbiamo passare da sopra! E credo proprio di sapere come fare. Che forza! Fantastico! La luce verde! Andiamo! Da questa parte! Cosa? Non potete farlo! Così non è giusto! Solamente io sono autorizzato a fare cose ingiuste! Dee, attenta! Paventa passeri, spostati! E vai! Fantastico! Sì! No, no, no! L'hanno fatto di nuovo! Ora... E vai! Oh!